La creazione di corsi pratici prevede l'abbinamento di un programma teorico e di una parte pratica e pensiamo che sia una soluzione molto importante da ripetere in futuro anche in diversi settori anatomici in altre specialità per affinare quelle che sono le competenze chirurgiche e l'esperienza professionale dei singoli chirurghi soprattutto per quanto riguarda la formazione nei giovani per un'esperienza e un confronto multidisciplinare sul piano nazionale e internazionale. Questo tipo di corsi sono degli ottimi momenti in cui ci si può confrontare tra colleghi, condividere esperienze personali, imparare anche dai più esperti e soprattutto creare un network, creare una rete, riuscire a gestire attraverso la conoscenza con vari colleghi, conoscere e incontrare colleghi più esperti, poter relazionarsi in momenti pratici diciamo e anche teorici sulle diverse complessità del campo ortopedico, diciamo sono situazioni che è assolutamente indispensabili nel piano formativo.